Una delibera di iniziativa popolare per far sì che il comune di Arezzo si costituisca parte civile negli eventuali processi a carico degli ex amministratori di Banca Etruria. A lanciare la proposta era stato il leader del movimento possibile Giuseppe Civati in terra retina per l'occasione. Ha preso il via così la raccolta firme ne serviranno in tutto 300 per poter depositare in comune la delibera e chiedere che venga ammessa ed approvata dal Consiglio Comunale. Di là delle opinioni personali che può avere il sindaco sarà la città attraverso il Consiglio che deciderà che posizione prendere. La posizione è molto delicata, io non nego che sull'argomento ho sentimenti contrastanti. Da un lato quello di stare vicino ai cittadini ovviamente, dall'altro di non trovarsi a essere come dire giustiziari sommari di situazioni che sono molto complesse. Però se ci saranno dei processi penali che riguardano persone nei confronti delle quali è ascrivibile una parte delle responsabilità, il comune nell'interesse dei cittadini e anche a livello simbolico per l'intera città valuterà se o meno costituirsi come parte civile. Deciderà il Consiglio Comunale. Ha definito un atto dovuto Civati, ieri la costituzione da parte del comune di Arezzo. Beh, allora, è un atto dovuto in quanto il disastro di Banca Etruria è un disastro cittadino che si porta sulle spalle l'intera collettività. Costituirsi parte civile ci si costituisce contro delle persone. Quindi io vorrei capire un po' meglio in che termini si pongono questi giudizi penali, io personalmente. Però, ripeto, rispetterò qualunque esso sia la decisione del Consiglio Comunale. Grazie. Grazie. Grazie.